Ciao disasters, io sono Sofia, bentornati e benvenuti nel mio canale. Ma da 1 a 10, quanto è bella questa felpa? Vabbè, ma non è della felpa che volevo parlare in questo video, anzi andremo a toccare un argomento sul quale mi fate un sacco di domande, soprattutto su Instagram. E appunto se non mi seguite andatemi a seguire perché sono super attiva, faccio sondaggi, vi domando cose, vi chiedo che video vi potrebbe interessare sul canale, vi anticipo i video, quindi andatemi a seguire. E prima di iniziare il video, appunto, mettete un bel like, iscrivetevi al canale perché ogni settimana escono nuovi video su vita all'estero, video motivazionali, viaggi e lifestyle in generale e tante altre cose che potrebbero interessarvi se siete capitate con qui. Sofia, ma fai networking per fare questa vita? Sofia, ma sei una nomade digitale, lavori solamente online? Sofia, ma YouTube riesce a mantenerti da poter vivere e spostarti e viaggiare così spesso? Sofia, secondo me tu c'è una barca di soldi che ti puoi permettere di fare quello che ti pare. Ma magari se fosse stato così non sarei stata qua, o forse sì, lo so. Comunque no, escludiamo il fatto che io sia ricca. Devo lavorare per campare. Sono una nomade digitale? No, non ancora, non per ora, perché non mi posso permettere con i miei lavori online di fare tutto, non è il mio guadagno principale, come non lo è YouTube. YouTube è un guadagno, ma non è il guadagno principale della mia vita e del mio campà. E no, non lavoro come networker, non giudico chi lo fa, ma penso che non mi appartenga. Ma quindi Sofia, come fai a campare, a fare questa vita, a viaggiare così tanto, a prenderti dei momenti dove non fai niente, la risposta è più facile di quanto crediate. Sono dell'idea che quando si hanno passioni veramente grandi, si possano fare sacrifici immensi, ed è quello che faccio io. La mia passione più grande, le mie passioni più grandi, sono quelle di vivere all'estero e viaggiare. Per questo sto facendo dei sacrifici grandi, grandissimi, che per me però non sono così tanto grandi. Sarà che oramai mi sono abituata a vivere così. Facciamo un recap di chi sono e della mia vita, perché magari chi è capitato in questo video e non mi conosce non sa nemmeno di che cosa sto parlando. Io sono Sofia e dal 2014 vivo all'estero. Ho vissuto 4 anni a Londra, dove mi trovo tuttora, ci ho vissuto con uno stacco di 2 anni, dove ho vissuto in Spagna e in Spagna ho vissuto a Benalmadena e a Malaga. Nel 2020 a maggio mi sarei dovuta trasferire facendo un viaggio di un mese o due mesi. Era deciso lì per lì. E poi trasferirmi in un posto dove non dico, perché questo trasferimento è previsto per il 2021. Ma se volete saperne di più, ho fatto un video precedentemente, ve lo lascio qua sopra da qualche parte. La mia vita è un salterellare da un posto a un altro. Fare viaggi. Quindi qual è sostanzialmente il segreto di questa vita? Che vada bene, non è una vita da sogno, dove io sono sempre in vacanza e non faccio niente. Assolutamente no. Come ho già detto, YouTube, i social, i blog non sono il mio guadagno principale. Quindi cosa devo fare? In primis devo trovarmi un lavoro. Un lavoro che può essere cameriera, può essere barista, può essere commessa, può essere qualsiasi lavoro mi permette di viaggiare, guadagnare e risparmiare. Sì, potrei fare altri lavori. Potrei fare la receptionist o lavorare in un ufficio o lavorare come segretaria, quello che volete. Ci sono tantissimi lavori che si possono fare nel mondo. Ma io cerco lavori che mi permettano di avere dei giorni liberi che posso attaccare e combinare, che mi possano permettere di prendere ferie durante l'anno più volte e che appunto mi permettono di guadagnare abbastanza bene da vivere, non sopravvivere in una città e da risparmiare un po'. I primi anni a Londra, nel primo periodo, ho lavorato in un caffè che ho lasciato dopo tre mesi, perché appunto i guadagni erano veramente tanto pochi, ma mi è servito un sacco per imparare l'inglese. Fatti tre mesi lì, ho lavorato in un altro bar, Costa Coffee, che penso tutti conoscano. Quel lavoro mi pagava di più, mi permetteva di fare un po' meno ore di lavoro e di guadagnare abbastanza bene, di crescere dentro la compagnia e di viaggiare. Ho deciso che era il momento di trasferirmi e andare via e decisi Malaga, perché in un viaggio mi innamorai follemente e decisi di trasferirmi. E sono stata sei mesi, i miei sei mesi sabbatici, a casa con i miei genitori, che sono venuti a vivere anche loro in Spagna. Ho fatto un po' di corsi, ho studiato spagnolo, ma più che altro non ho studiato quanto ho imparato conoscendo persone, perché mi iscrissi a un corso di salsa, quindi ho imparato anche a ballare latinoamericano. Da lì i miei genitori, quando sono finiti questi sei mesi, era arrivato agosto, loro decisero di fare un interrail in giro per l'Europa. In quel momento non mi andava e decisi di andare a Malaga. Mi portai le mie due solite valigie dietro, stampai qualche curriculum e andai in giro per trovare il lavoro. Primo lavoro che mi capitasse per mettere da parte altri soldi e poter viaggiare. In quell'anno diciamo che la mia priorità non era viaggiare, ma era mettermi da parte i soldi per la rinoplastica. Sì, mi sono operata di rinoplastica, era un desiderio che aspettavo da anni. Purtroppo quell'anno ho fatto un lavoro che non mi ha permesso di viaggiare. Quando sono rivenuta a Londra, avevo qualcosina da parte, cercai subito un lavoro. Se volete sapere i motivi per i quali sono venuta a Londra di nuovo, ho fatto un video anche per quello, ve lo lascio sempre qua sopra da qualche parte. Non volevo lavorare come barista o cameriera e mi misi a fare la commessa. Il mio trasferimento era per maggio 2020. Ovviamente non ho potuto. Speriamo di ricominciare a viaggiare e di poterci godere questo mondo che ci ha detto un attimo, fermatevi raga perché un attimino. Svelato il trucco, ho svelato il segreto, non sono ricca. YouTube e i miei lavori online non sono la mia prima fonte di guadagno e per campare ho da lavorare. Spero che questo video vi sia piaciuto. Vi invito di nuovo a seguirmi su Instagram e ad iscrivervi al mio canale perché ogni settimana escono nuovi video. E quindi niente, vi mando un grandissimo bacio, un grandissimo abbraccio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!